ciao ragazzi qui raid dnv oggi vi faremo sentire delle canzoni straniere ma ascoltate bene perché potreste sentire qualche cosa di strano state a vedere come prima canzone viveremo ascoltare una canzone di two steps from hell intitolata breaking a quanto pare la cantante non vuole farsi vedere come prossima canzone vi faremo ascoltare una canzone di un videogioco a quanto pare il tizio parla della sua brace fottuta da un extracomunitario divoratore di cappelli state a vedere a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.